Una stangata da quasi 1.500 euro a famiglia è quella in arrivo a partire dal prossimo gennaio, secondo le previsioni di Ados, Beff e Feder Consumatori. Un vero e proprio balzo, stimano le associazioni dei consumatori, sarà quello della tariffa sui rifiuti, che aumenterà da aprile dell'anno prossimo del 25%, pari a 64 euro in più a famiglia. A salire saranno però anche i prezzi degli alimentari, l'assicurazione auto, le tariffe professionali e artigianali, le tariffe aeroportuali, oltre alle bollette di luce e gas, anche se in modo più contenuto rispetto al 2012, e dell'acqua, la cui tariffa sarà presto aggiornata dall'autorità per l'energia. Piccolo rincaro, infine, anche per il canone RAI, a cui si aggiungono però anche gli aumenti di banco posta a francoboglie raccomandate. Rincari dunque a 360 gradi, che secondo le associazioni dei consumatori saranno sempre più insostenibili per le famiglie italiane.